Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Un video dedicato finalmente a PopOS e a Cosmic Day, il desktop environment interamente scritto in Rust dai ragazzi di System76, pensato per equipaggiare PopOS e per i computer venduti da System76 ma che è liberamente installabile su qualsiasi distribuzione Linux che voglia adottare ma a qualsiasi utente voglia adottare sulla propria distribuzione Linux. Il rilascio di questa prima versione Alpha, Epoch 1, come è stata ribattezzata, di Cosmic Day è avvenuto oggi, 8 agosto, e sono subito andato a installare la distribuzione. Questa volta l'ho installata su Macchina Reale, non ho messo macchine virtuali come ho fatto per altre distribuzioni recentemente perché non recensioni pubblicate sul blog perché ci tenevo a capire la reale entità, la reale leggerezza di questo desktop environment le reali prestazioni di questo desktop environment e oltretutto sono così appassionato di questo desktop environment e ripongo così tante fiducia in questo nuovo desktop environment che ho deciso di adottarlo come mio sistema operativo principale come mio desktop environment principale quindi da qui ai prossimi mesi sino al rilascio della versione stabile di PopOS 24.04 e di Cosmic Day in forma stabile vedrete tutti quanti gli articoli di Marcosbox fatti realizzati, tutti quanti i video di Marcosbox, del podcast e quant'altro tutti quanti realizzati su questo nuovo desktop environment su questa distribuzione ma andiamo subito a vedere com'è questo desktop environment che cosa è stato implementato sino ad adesso in questo desktop environment e andiamo a vedere quali sono i pregi e quali sono i difetti di difetti possiamo parlare anche in questa versione molto primitiva perché questa è una prima alfa quindi sarà buono anche con i ragazzi di System76 come potete vedere questo è il desktop environment così come si presenta al primo avvio in basso troviamo la dock con alcune scorciatoie quindi con alcuni programmi che sono stati pinnati ma anche con il solito perché ne eravamo già abituati la solita funzionalità di ricerca la solita funzionalità che ci consente di mostrare gli spazi di lavoro il solito pulsante che eravamo abituati a vedere su Popo S che ci consente di mostrare tutte quante le applicazioni installate e insomma questo è il comportamento della dock questo è come si presenta la dock al primo avvio modifica che possiamo vedere che possiamo subito percepire che di default la dock è messa in modalità dock se vi ricordavate se avete già utilizzato in passato Popo S sapete che al primo avvio viene mostrato una welcome screen dove vi invita a settare temi e quant'altro e tra le pozioni vi invita anche a settare il comportamento del pannello che può essere un pannello può essere una dock o come più vi aggrada mentre su Cosmic Day hanno deciso di optare direttamente per la dock quindi niente più pannello e non una cosa positiva perché io non ho mai capito che cose ci trovano le persone di avere in quel mega pannello gigante in basso ma vabbè è capace che i ragazzi di System76 decidano di reimprimentare questa funzionalità nelle prossime release di questo nuovo desktop environment però come potete vedere abbiamo un desktop environment un ambiente grafico simile a quello che noi avevamo già abituati a utilizzare su Popo S abbiamo lo stesso layout abbiamo la stessa posizione degli indicatori abbiamo la stessa posizione della gestione degli spazi di lavoro delle applicazioni le stesse scorciatoie la stessa possibilità di funzionare il tutto tramite combinazioni di tastiera quindi gli utenti che hanno già apprezzato la versione di Gnome Shell personalizzata da Popo S non si troveranno spaisati nell'utilizzare Cosmic Day ed è una cosa che apprezzo molto e così come apprezzo molto guardate quanto è bella perché quelli di Gnome si ostinano a non volerla implementare vedete abbiamo gli indicatori abbiamo tutti quanti gli indicatori funzionanti vedete quanto è bello anche se è notizia di questi giorni il team di di Gnome ha avanzato una proposta almeno alcuni all'interno del team di Gnome hanno avanzato una proposta per i merge di una modifica nel set di essenzioni quelle Gnome Shell Extension quelle di base di Gnome Shell per poter abilitare almeno un minimo supporto della della Trey quindi si sono ravveduti dopo secoli e secoli però l'hanno fatto in maniera incisiva mentre ben venga quello che è stato fatto dai ragazzi di System76 che hanno pensato subito a mettere questa cosa che io reputo essenziale la 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 trai con tutte quante le con tutti quante le scorciatoie con le icone minimizzate a mio avviso è fondamentale va bene ma torniamo a Cosmic Day andiamo a vedere qualche altra caratteristica qui al centro troviamo le impostazioni per il calendario quindi essenziale ben fatto dai mi piace mi piace andiamo adesso a vedere quali sono le applicazioni che sono attualmente presenti e preinstallate all'interno di Cosmic Day allora attualmente vi dicevo è una versione alfa quindi non ci sono molte applicazioni che sono state pensate per questo desktop apartment ci sono quelle essenziali quindi abbiamo il Cosmic App Store di cui vi avevo parlato anche qualche mese fa all'interno delle pagine del blog che è lo store delle applicazioni di 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 PopOS che è uno store davvero ben fatto ve ne avevo parlato vi dicevo perché offre delle prestazioni davvero invidiabili rispetto ad altri store molto rapido nella nella ricerca di applicazioni nell'istalazione di applicazioni quindi hanno fatto anche un bel lavoro sotto questo punto di vista ma lo vedremo più avanti in questa video anteprima troviamo poi Cosmic File che è il file manager Cosmic Settings che serve per gestire le impostazioni di sistema il Terminale Cosmic Terminal e Cosmic Text Editor che serve per poter andare a avere un editor di testo basilare per poter editare testo editare editare file di configurazione e quant'altro qui troviamo poi Firefox che è il browser predefinito su PopOS OBS che ho installato io per fare questa video recensione sotto la categoria ufficio troviamo Document Scanner Thunderbird il visualizzatore video quello di Gnome il visualizzatore di immagini visualizzatore di documenti anche questi sono quelli di Gnome per adesso quindi immagino spero che in futuro vengano sostituiti anche questi da applicazioni scritte in rust e pensate per Cosmic nelle impostazioni di sistema troviamo il monitor di sistema andiamo magari a vedere anche il consumo delle risorse vabbè in questo momento sto facendo una registrazione però già vedo da qui posso apprezzare che non sta consumando non sta consumando tanta memoria rispetto rispetto a una una versione di Gnome con estensioni ma torniamo un'altra volta oh lista applicazioni oh che sto combinando ecco poche piccole baghettine torniamo alla lista applicazioni troviamo troviamo Popsic che è un'applicazione di realizzata dai team di di PopOS già presente sulla vecchia versione che serve per far flasciare le pendrive ovviamente impostazioni driver nvidia repoman vediamo un po' che cosa serve repoman non pervenuto c'è qualche problema con repoman maggio che sia qualcosa per gestire i repository di sistema troviamo poi Cosmic screenshot che è l'applicazione per poter fare gli screenshot vediamo come funziona proviamo subito qui fa gli screenshot in questa maniera screenshot del sistema di tutto quanto insomma il nostro desktop ci fa selezionare se salvare in foto in documenti o nel clipboard vediamo un po' il pop up che ci ci comunica che è stato fatto uno screenshot adesso andiamo a vedere lo screenshot ok allora già che ci troviamo vi faccio vedere il file manager il file manager che è uno degli elementi più importanti all'interno di un di un desktop environment e questo è il file manager pensato per per questa distribuzione come possiamo vedere ricorda molto i file manager classici quindi quelli ad esempio Nautilus o Files o Gnome Files come lo volete chiamare quindi abbiamo sulla sinistra pinnato le scorciatoie a home documenti scaricati musica immagini video cestine quantato le unità montate qui possiamo vedere la pendrive e gli altri dischi che ho sul sistema vediamo che cosa succede se clicco qui se clicco qui va a collassare il pannello laterale andiamo a vedere un po' nelle impostazioni nelle impostazioni che cosa troviamo allora nelle impostazioni di questa applicazione troviamo qui la possibilità di scegliere il tema se abbinare al tema della scrivania oppure andare a quindi è interessante anche questa cosa noi possiamo avere che ne so il tema scuro così come è impostato in questo momento ma possiamo decidere che il file manager debba avere il tema chiaro o vice emersa ed è una cosa interessante questa default view qui possiamo vedere di default abbiamo la vista a griglia oppure possiamo impostare una vista a lista così quindi anche questa è una cosa basiare però mi piace che è stata implementata in questa maniera pochi semplici settaggi schede questa mostra file nascosti ok la direzione vabbè l'ordinamento delle file e cartelle quindi roba roba classica che cosa abbiamo più qui possiamo fare lo zoom per aumentare le dimensioni e quant'altro andiamo a vedere la versione di cosmic files non c'è la versione c'è la versione da git ovviamente non è ancora in forma stabile tasto destro che cosa ci fa fare nuova cartella nuovo file apri in terminale ok e qui modificare adesso siamo ordinati per nome o possiamo per modifico per ordinare per dimensione quindi scorciato gli semplici scorciato gli essenziali per il funzionamento vediamo se funziona se noi vogliamo andare a modificare questo immagino che devo cliccare sulla matitina ok quindi cliccando sulla matitina è possibile andare direttamente che ne so editare il percorso quindi se noi sappiamo già dove vogliamo andare possiamo andare direttamente qui quindi con la matitina lente di ingrandimento immagino che serve per fare la ricerca ovviamente questo è un computer non c'è niente quindi in questo momento che cerco non cerco niente è una installazione fresca beh comunque file manager di cosmic mi piace semplice essenziale andiamo a vedere qualche altra applicazione andiamo a vedere l'editor di testo di cosmic allora qui proviamo a scrivere qualche cosa vediamo quali sono le impostazioni allora c'è abbiamo il correttore ortografico che è integrato all'interno trova sostituisci trova nel progetto che ci sta più vediamo un po' che possiamo fare più apriprogetto apriprogetto recente annula tutte le modifiche statistiche del documento che quindi ci fa il conteggio delle parole dei caratteri dei caratteri senza spazi delle linee quindi ci dà anche queste informazioni sui documenti di testo che andremo a editare con questo editor di testo che possiamo utilizzare a questo punto visto che le funzionalità che ha gestione agit agitmanage ah ok perfetto adesso non è ancora iniziale implementata questa funzionalità immagino quindi 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 interessante qui larghezza della tabulazione devo vedere le impostazioni in cosmic anche in questo caso abbiamo la possibilità di impostare il tema chiaro e scuro per sintassi il font predefinito che è firmont possiamo cambiarlo e scorciatori da tastiera quelle in stile Vim che possiamo abilitare anche questo editor di testo basilare mi sembra ben studiato magari mi risolvo il diritto di di andare a approfondire questa applicazione nel corso dei prossimi mesi abbiamo poi le murature del terminale vabbè qui non c'è c'è poca roba da vedere le murature del terminale vediamo giusto nelle impostazioni anzi qua ci fa vedere direttamente gli schemi di colore che possiamo importare andiamo un po' vediamo che cosa troviamo nelle impostazioni di cosmic terminal anche in questo caso possiamo scegliere tema chiaro tema scuro oppure abbinare in base al tema di sistema altre impostazioni per cambiare il carattere quindi anche in questo caso funzionalità per adesso basilari ma che ci sono tutte ci sono tutto quello che ci serve per poter iniziare a lavorare ma andiamo a vedere adesso a dare uno sguardo a quella dell'applicazione che secondo me è quella migliore presentata sino adesso quella che che fa vedere le potenzialità di questo di questa riscrittura dell'ambiente desktop fatta dal team di di system76 allora questo è il gestore applicazioni lo store applicazioni come lo volete chiamare integrato all'interno di cosmic day qui possiamo vedere che abbiamo una divisione per categorie qui possiamo esplorare tutte quante le varie categorie quindi roba tradizionale qui abbiamo le varie categorie ad esempio creare lavorare sviluppare e troviamo tutta una serie di applicazioni che ci consigliano e andiamo qui a gestire tutte quante le applicazioni installate cliccando su questa voce quindi qui ci fa vedere quali sono i pacchetti aggiornati di sistema qui ci fa vedere le applicazioni che possiamo aggiornare applicazioni presenti nel caso in cui ci sia un aggiornamento chiedo scusa potremmo vedere qui la possibilità di aggiornare cliccandoci poi su aggiornamenti possiamo aggiornare tutto il cucuzaro tutto il sistema vediamo se c'è qualche aggiornamento di sistema ok abbiamo già un aggiornamento di Cosmic Panel Cosmic Settings e abbiamo anche aggiornamenti per Firefox adesso non lo faccio perché ho paura che mi crashi mezzo mondo quindi andiamo a vedere come si installa qualche applicazione andiamo a installarci quello sì vediamo quello di due allora questo è WRC da Flattab vediamo se quell'altro mio WRC mi fa vedere quello da repository di sistema ok questo è da sistema questo è curioso questo comportamento perché ho visto che quando sono andato a installare OBS mi faceva vedere soltanto OBS mi faceva scegliere con l'inseratore se installare la versione da repository o quella da Flattab in questo caso su WRC stranamente l'hanno separate ma mettiamo il caso che vogliamo installare la versione da Flattab clicchiamo su installa e qui parte l'installazione come vi dicevo anche vedete è molto immediato molto semplice molto veloce e quindi avete qualche altra applicazione che possiamo installare ho ridimensionato cose che non volevo ridimensionare ad esempio andiamo a installare che ne so Audacity vediamo Audacity ecco come vi dicevo nel caso di Audacity abbiamo la possibilità di selezionare tramite questo selettore se installare la versione presente su Flattab o quella presente nei repository di sistema e come possiamo vedere anche un'altra cosa interessante che sto notando in questo momento questo store ci indirizza principalmente in maniera prioritaria verso le applicazioni presenti su Flattab probabilmente per avere tutte le applicazioni aggiornate e quindi sliegarci dai repository di sistema scelta interessante scelta discutibile per alcuni secondo me ci può stare ci può stare vediamo se ci sta un segretto cioè qualcosa che mi fa vedere se l'applicazione che stavo installando prima è ancora in corso non giustamente aveva già finito di installare ecco perché non mi faceva non c'era nessun nessuno stato d'avanzamento ecco non viene mostrato nessun stato d'avanzamento in basso ecco per esempio questa cosa andrebbe implementata a mio avviso mettere una barrettina qui quando quando stiamo installando qualche cosa che ci fai dello stato di avanzamento dell'installazione senza stare lì a vederla dalla pagina dell'applicazione che stiamo andando a installare mi piace a me mi piace io ho detto già l'ho provato in passato l'ho provato a installare davvero molto veloce hanno lavorato davvero bene su questa applicazione ma adesso andiamo a dare uno sguardo a qualche altra applicazione come ad esempio andiamo a dare uno sguardo alle impostazioni di sistema a quelle componenti base che sono state attualmente implementate all'interno di Cosmic Day qui possiamo vedere che cosa è stato implementato sino adesso roba pochina ma anche in questo caso roba essenziale desktop qui possiamo cambiare lo sfondo e possiamo decidere se applicare come applicare lo sfondo se fare un riempi un adatto allo schermo sfondo periodico quindi che cambia ogni determinato intervallo di tempo che noi andiamo a dare da 5 minuti fino a 2 ore togliamo lo sfondo periodico andiamo a mettere uno sfondo un po' più allegro perché questo qua mi metto un po' non lo so mi metto un po' ansia questo sfondo mettiamo 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 questo sfondo ecco forse è meglio forse è meglio mettiamo la terra che è più più carina la terra questo è Marte è la terra vedo l'acqua allora quindi hanno impostato hanno gestito hanno messo giusto il minimo per le impostazioni dello sfondo per adesso però è carino che hanno già pensato a introdurre la funzionalità per mettere uno sfondo che cambia nel tempo senza dover stare a instagare altre applicazioni aspetto qui ci dice che possiamo gestire il corredo dell'accento del tema di Cosmic di default abbiamo il tema scuro possiamo mettere il tema chiaro che onestamente io predico è carino il tema chiaro io non lo so perché la gente continua ad utilizzare i temi i temi scuri boh non lo so che cosa ci trovate il tema scuro ha senso su un amoled su uno schermo normale il tema scuro secondo me lascia il tempo che trovi e poi tra parentesi io non utilizzo neanche il tema scuro nemmeno sullo smartphone con 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 l'amoled preferisco sempre i temi chiari vabbè so che a voi a molti di voi piacciono i temi scuri rimettiamo il tema scuro così non vi non vi creo fastidio con questa luce potente del tema chiaro allora qui che cosa ci dice dice che abbiamo la possibilità di cambiare automaticamente il tema chiaro il tema scuro che si regola in base all'orario del giorno interessante anche che hanno implementato questa cosa qui allora qui possiamo cambiare i colori degli accenti adesso abbiamo l'accento di base questo qui per esempio mettiamoci il giallino ecco come possiamo vedere cambia cambia il bordino attorno all'applicazione vediamo che succede se metto tutto schermo all'applicazione ok non cambia soltanto il bordino cambiano anche gli accenti delle selezioni del testo e quant'altro quindi anche anche questa cosa è interessante ah possiamo mettere anche un un colore personalizzato che ne so ci mettiamo questo qua ah bello ci possiamo personalizzare come ci piace mettiamo il tema di default che io sono amante dei temi di default sfondo applicazione a finestra che cosa fa allora mettiamo che cosa fa ah ok il fondo dell'applicazione nel senso che possiamo personalizzare che ne so ci piace allora cliccando su ripista predifini ci metti predifini però vogliamo tutto tutto rosso siamo delle bestie di saturn in questo caso madonna mia quando è bruttissimo come potete vedere possiamo anche personalizzare in questa maniera il nostro tema andiamo a vedere se cambia anche all'interno del browser ma non penso che vada a cambiare il tema infatti su browser non va ad agire va ad agire soltanto sulle applicazioni anzi dovrebbe agire soltanto sulle applicazioni quelle quelle di cosmic there andiamo a ripresinare il tema perché so che molti di voi avranno crisi di vomito con questo colore che sono andato a scendere allora questo dice invece sfondo contenitori colore primario del contenitori usato per la barra laterale finestre di dialogo widget e quanto altro anche in questo caso possiamo andare a personalizzare questa opzione tinta per il testo dell'interfaccia tinta per i componenti di controllo lo stile lo stile leggermente arrotondato ah quindi ci cambia i pulsanti di default arrotondato leggermente arrotondato oppure spigoloso se siamo delle persone molto spigolose qui windows management quindi possiamo gestire la griglia dell'applicazione e quant'altro dei dettagli dei dettagli delle finestre settaggi sperimentali qui che cosa possiamo cambiare ah le icone in questo caso quindi possiamo anche cambiare le icone di sistema andiamo a dare uno sguardo al pannello vediamo un po' se hanno messo quella cosa che dice un voglio di mettere il pannello a tutto schermo vediamo un po' allora come diciamo di default c'è la dock qui possiamo mettere nascondi automaticamente il pannello quindi il pannello superiore o chi agisce su quello la posizione del pannello in alto a sinistra a destra in basso che succede se lo metto in basso ah se lo metto in basso viene questa cosa molto curiosa comunque mi piace questo fatto che potete personalizzarlo veramente in maniera in maniera approfondita rimettiamo in alto il pannello mostra il pannello nel display su tutti i display nel caso in cui abbiamo più monitor collegati spazio tra il pannello e i bordi dello schermo che cosa fa ah ecco bella questa cosa qui adesso non si percepisce molto cambiamo cambiamo un attimo sfondo così vi faccio vedere che cosa che cosa siamo andati a fare sfondo andiamoci a mettere uno sfondo chiaro così vedete subito ecco vedete fa questa possibilità di avere il pannello flottante quello che è stato introdotto recentemente anche su su KDE è bella questa cosa che si può impostare anzi a mio avviso avrebbero dovuto farlo di default una cosa ah vedete quando è bella e poi se mettiamo tutto schermo va invece a tutto schermo anche il pannello mi piace questa cosa qui mi piace secondo me un suggerimento per quelli di Cosmic e per quelli di SIS 70 potete impostare secondo me proprio questa come modalità predefinita del pannello superiore perché è più carina più moderna più più fancy più carina vabbè l'ho detto è più bello a me piace di più allora vediamo un attimo che quale altre impostazioni che possiamo mettere questo qui dice stendi pannello ai bordi di sistema quindi immagino che se lo tolgo ecco perfetto ci rimpicciolisce il tutto anche questa è un'altra cosa interessante di personalizzazione qui possiamo cambiare in base se vogliamo quello scuro quello di sistema e quant'altro questa è la dimensione questa è l'opacità dello sfondo ad esempio adesso c'è il 100% proprio se non metterlo trasparente bella bella questa cosa sto vedendo che hanno puntato molto sulla personalizzazione per consentirci di rendere questo desktop è veramente perfetto per le nostre esigenze qui possiamo configurare gli applet del pannello che sono quelli che abbiamo di default in questo caso il bluetooth la possibilità di attivare disturbare gestione delle reti gestione audio spazi di lavoro e tiling che possiamo attivare magari andiamo a vedere dopo il tiling e altre icone che possiamo vedere qui quindi possiamo anche aggiungere un applet maximi di windows minimizza windows questa qua che cosa fa allora che cosa ha fatto questo applet no che fa questo applet non lo fido lo stapplet lo stapplet l'ho messo non l'ho messo minimizza windows esce qua ah è questo qua perdono non avevo non avevo colto che era questo qui l'applet che ci mette la riconcina dalle finestre minimizzate anche lì eh vabbè ci sono gli applet basilari che sono sempre di più degli applet quelli di default di gnome pensato meglio bravi bravi quelli di system 76 che hanno sono andati incontro agli utenti normali non ai utenti psicopatici che non hanno le icone nella try qui che cosa abbiamo invece barra delle applicazioni allora questa è la barra delle applicazioni quella in basso che vi dicevo prima nasconde automaticamente ovviamente la solita impostazione la posizione possiamo mettere in basso in alto pardon scusate mi sto invogliando a destra scusate perché l'ho messo nascondito automaticamente sto rincoglione a destra a sinistra ok andiamo possiamo mettere possiamo mettere dove vogliamo rimettiamo come il default in basso stile spazio tra la barra delle applicazioni body of scampo anche in questo caso possiamo mettere la barra flottante qua sotto bella questa cosa mi piace ecco questa è l'impostazione quella lì che trovavamo anche su 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 pop s su su l'impostazione quella che va a trasformare la doc in un in un pannello quindi questo mi fa pensare che nelle prossime versioni di di cosmic probabilmente implementeranno anche una schermata di benvenuti che ci consente di andare a personalizzare questo aspetto se hanno deciso di mantenere probabilmente ci faranno scegliere in futuro questo comportamento però veramente a voi vi piace veramente questa cosa qua del pannello gigante lo trovo tutto spazio sprecato allora anche in questo caso possiamo cambiare l'aspetto cambiare le dimensioni cambiare l'opacità e configurare gli uplet che possiamo anche aggiungere altri uplet qui sul sul pannello quindi possiamo andarci a mettere a duplicarci gli uplet di sopra magari ci piacciono le cose al doppio oppure togliamoli da sopra perché sono l'indicatore bluetooth e ci sono da piazzare qua sotto è una possibilità in più di personalizzazione gestione delle finestre ovviamente super key tasto quello windows che serve per aprire gli launcher in questo caso però possiamo mettere anche per aprire gli spazi di lavoro o per aprire le applicazioni di default abbiamo il launcher quindi il solito launcher per andarci a cercare il tutto mostra il pulsante minimizza e massimizza quindi qui abbiamo queste opzioni e spazi di lavoro qui troviamo una cosa che avevo visto nella anzi ve ne avevo parlato qualche mesetto fa sulle pagine del blog è stata implementata anche un'altra cosa interessante vedete i spazi di lavoro attualmente di default sono con gli spazi di lavoro che sono visualizzati sulla sinistra in serie gnome giusto per intenderci però possiamo anche impostare un comportamento in orizzontale degli spazi di lavoro e vedete quanto è carino con gli spazi di lavoro in orizzontale così ci sta anche ci sta più roba se noi aveviamo diversi spazi di lavoro possiamo sfruttare diciamo i monitor in lunghezza quindi bella questa questa cosa che hanno implementato io avevo messo il silenzioso sul telefonino però è squigato lo stesso qui possiamo fare il comportamento nel caso di più schermo di più schermi degli spazi di lavoro quindi questa è la sessione desktop la sezione schermo ovviamente ci fa vedere la frequenza l'aggiornamento la risoluzione la scale e quant'altro qui le impostazioni per quanto riguarda il bilanciamento energetico dispositivi di emissione qui possiamo gestire la tastiera quindi possiamo gestire i soggetti di emissione nel caso mio di default mi vanno a mettere sempre la tastiera internazionale americana con dead keys perché ho una tastiera quella americana che trovo più comoda per l'utilizzo per l'utilizzo in generale perché c'ha le lettere accentate rapide che è una cosa che io che scrivo molto apprezzo poi vabbè qui possiamo gestire i caratteri speciali scorciatoie da tastiera quindi qui possiamo visualizzare scorciatoie da tastiera super cooper chiudere le finestre possiamo impostarne anche di nostri di scorciatoie quindi hanno anche pensato di pensato bene di mostrare subito questa possibilità agli utenti anche in questa versione alfa di di cosmic di cosmic test open environment qui è la gestione del mouse doppio clic velocità insomma le solite cose basilari orario e linguaggio qui possiamo andare a gestire la lingua e località account di sistema quindi informazioni la volete smettere di chattare a quest'ora e qui possiamo andare a vedere le informazioni di sistema quindi modello hardware andiamo a vedere su che macchina stiamo seguendo il tutto che è una cosa che hanno tutti quanti i desktop environment e dettagli del firmware questo immagino servirà per aggiornare i firmware sui sistemi compatibili e su su pop su pop anzi sui computer venduti a system 76 e qui andiamo a gestire che cosa gli utenti però non ci fa cliccare niente vediamo se mettendo tutto lo schermo c'è qualche bug che non è stato evidentemente non è stato ancora implementato al 100% questa funzionalità ovviamente anche in questo caso questo pulsantino qua ci fa colgassare il pannello che l'abbiamo visto nell'affine manager e questo ci va andare a ricercare che ne so la funzionalità di sfondo che ne so andiamo a cercare subito le impostazioni che noi vogliamo andare a modificare senza andarci a perdere con il punto e il clic nei menu quindi oh che dire questa prima versione alfa di Cosmic Day mi sta mi sta piacendo perché mi piace Cosmic Day perché hanno fatto hanno pensato a fare un sistema semplice un sistema familiare a tempo stesso hanno accontentato tutti hanno accontentato i fan hanno continuato insomma a accontentare tutti così come era sulle vecchie versioni di PopOS dove con una serie di estensioni veniva modificato l'interazione dell'utente con Gnome Shell andandogli a aggiungere la possibilità di utilizzare i desktop environment sia con il punto e clic che con le scorciatorie della tastiera ed era una cosa che molti di voi hanno apprezzato su PopOS e questo Cosmic Day è la naturale evoluzione di questa serie di estensioni pensate per per Gnome Shell che adesso hanno vita propria hanno una casa propria hanno anche un futuro migliore perché adesso gli sviluppatori di Sist 70 si sono slegati da creazione di Gnome quindi potranno implementare tutte quante le funzionalità che gli interessa c'è varie versioni di Cosmic quindi non dovranno più stare a sopportare i capricci quelli di Gnome quindi non dovranno più rincorrere eventuali rotture introdotte con cambiamenti all'interno del codice di Gnome così come ne succedeva in passato che magari andavano a modificare qualche cosa e si rompevano le estensioni e quant'altro quindi hanno fatto benissimo i ragazzi di System76 a crearsi un desktop environment in casa con Blackjack e Squigli Russo come direbbe Blender seguirò come vi ho detto continuerò a seguire lo sviluppo di Cosmic Day continuerò a utilizzarlo come desktop environment predefinito fatemi sapere voi che cosa ne pensate lasciate un commento qui in basso o sia sulle pagine del blog che sul canale YouTube di Marcosbox al quale vi invito ad iscrivervi numerosi qualora non l'aveste ancora fatto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox o con un nuovo video sullo stato d'avanzamento di Cosmic perché come vi ho detto lo seguirò in maniera continua e assidua ciao ciao a tutti quanti